Ma io non capisco perché si pretenda da questa amministrazione ciò che non si è mai chiesto ad altri in passato, anche nel più recente passato. È così che oggi Simone Di Paola, capogruppo del Partito Democratico, accusa l'opposizione, segnatamente quella che alle elezioni ha sostenuto la candidatura a sindaco di Colo Girobono. L'accusa è quella sostanzialmente di predicare bene, razzolare male. Alternativa Popolare, Progetto Sciacca, Sciacca al Centro, Forze Tale e da oggi anche Udc, hanno attaccato sia sulle presunte riunioni a porte chiuse che Francesca Valenti convocherebbe, sia sul numero insufficiente di consigli comunali che si svolgono in città. Si pretende che il sindaco debba gestire anche incontri istituzionali, anche di particolare rilievo, dovendo invitare tutti, come se la stanza del sindaco fosse una specie di spazio aperto a tutti. Avrà o no il diritto il sindaco di espletare le proprie funzioni istituzionali in piena libertà, decidendo quando è il caso di aprirsi al confronto con le forze politiche e quando invece è il caso di farlo rappresentando la città in prima persona. Io che sono un esponente, diciamo, rilevante di questa maggioranza, non ho partecipato a queste riunioni. Certamente non vado in televisione a sollevare un putiferio perché i consiglieri comunali non sono invitati a queste riunioni. Gli spazi di confronto istituzionale ci sono e si chiamano consigli comunali. Ma consigli comunali che però non si tengono, c'è anche questo come rilievo che viene fatto dall'opposizione. Nei primi cinque mesi del 2012 sono stati celebrati otto consigli comunali. In questi primi cinque mesi sono stati celebrati sei consigli comunali. Vogliamo sollevare un macello per due consigli comunali in meno? Un tema, lo scarso numero di sedute consigliari per il quale Simone Di Paola dà la colpa all'opposizione. Ci sono dei punti importanti fermi nelle commissioni o quantomeno che procedono molto a rilento, soprattutto in alcune commissioni dove nonostante i miei colleghi della maggioranza cerchino di accelerare il più possibile l'adozione di questi punti per mandarli in consiglio, perché il consiglio comunale non è che si può convocare per discutere del sesso degli Angeli o dell'Inter o del Milan. si convoca per discutere punti seri che sono licenziati dalle commissioni. Ma se le commissioni vanno a rilento, perché alcuni colleghi dell'opposizione ritengono attenzione come nel loro diritto è legittimo di volere acquisire ed utilizzare tutti i tempi che la legge gli consente per poter approfondire, per poter chiamare in commissione per chiarimenti. Oggi l'ufficio, domani l'assessore, dopodomani il sindaco. È evidente che i punti in consiglio ci arrivano molto a rilento. Non possiamo volere la botte piena e la moglie ubriaca. Se vogliamo che il consiglio comunale si celebri più speditamente, cerchiamo di essere conseguenti anche all'interno dei lavori delle commissioni. Ma proprio oggi i partiti della coalizione Bono sferrano un nuovo attacco. In una città tra buche e zampilli d'acqua che fuoriescono dalle pavimentazioni delle piazze, cittadini inferociti poichie privi d'acqua, si legge nella nota, il sindaco fa sapere che al prossimo incontro con Girgenti Acqua chiamerà i cittadini a presenziare. Ma il sindaco deve sapere che la città non vuole presenziare. I cittadini l'hanno votata e vogliono risposte precise da chi amministra, dal capo dell'amministrazione che le rappresenta in maniera legittima. Per i partiti di opposizione, dunque sempre più agguerriti, Francesca Valenti dovrebbe ammettere di aver mentito, illudendo esacenze attraverso una falsa rappresentazione del rapporto con Girgenti Acqua in merito ad una annunciata risoluzione del contratto, che il centrodestra reputa però impossibile, visto che non è il Comune la controparte dell'ente gestore. Alternativa Popolare, progetto Sciacca, Sciacca al Centro, Forza Italia e ODC, annunciano una conferenza stampa per fare il punto su quelli che vengono definiti i primi cinque mesi di amministrazione fantasma Valenti. Ed infine, i partiti credono che definire ridicola la critica di un consigliere comunale, cosa fatta da Francesca Valenti, sia davvero l'emblema di un modus operandi alla vecchia maniera e che non piace e non piace alla città.